Grazie, grazie a Perla di Poppa, ci sarà dunque, l'avete sentito, un terzo round di colloqui ma il Presidente Putin rimane fermo sulle proprie posizioni, le operazioni in Ucraina dice sono per la sicurezza della Russia. La risposta del Presidente Zelensky, sediamoci e parliamo di pace. Ascoltiamoli allora. I nostri soldati combattono per la pace, per denazificare e demilitarizzare l'Ucraina, per distruggere l'antirussia, creata dall'Occidente, vicino ai nostri confini, per minacciarci anche con armi nucleari. Se scompare l'Ucraina, Dio non voglia, le prossime saranno la Lettonia, la Lituania e poi Estonia, Moldavia, Georgia e Polonia. I russi si fermeranno solo davanti a un nuovo muro di Berlino. Che minaccia siamo noi? Siamo nella NATO? No. Abbiamo armi nucleari? No. Andate via dalla nostra terra. Oppure Putin si sieda al tavolo delle trattative, ma non a 30 metri di distanza, come ha fatto con Macron e Scholz. Io sono un vicino di casa, sono un uomo normale, non mordo, sediamoci e parliamo di pazzo. Il copione sembra ripetersi, mentre sono in corso le trattative Putin rilancia a contoni sempre più duri la propria strategia. In diretta c'è il nostro inviato Alessandro Cassieri. Sì. 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 Sì.